benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento sul canale con la conversazione. Oggi avremo un tema di ordine storico molto interessante e direi poco trattato sia dalla storiografia in generale ma anche da coloro che si occupano di storia e sto parlando di Carl Haushofer. Cercheremo di capire questo personaggio abbastanza complesso e avvicinandoci anche ad alcuni suoi temi più cari, li vedremo tra poco e mi accompagna in questo appuntamento Nicola Sgueo. Grazie per essere con noi. Grazie a te Edoardo. Ecco Nicola Sgueo perché? Perché a parte che insomma è storico e ha anche redatto una tesi di laurea su Carl Haushofer quindi chiaramente insieme a lui cercheremo di capire meglio questo personaggio. Diciamo che dal punto di vista eh generale eh Haushofer può essere individuato come ad alcuni ovviamente viene chiamato in questo modo il padre della geopolitica. Ehm quale ci sono una serie di di diciamo anche miti intorno a questa figura qualcuno addirittura sostiene che sia stato lui a scrivere il Mein Kampf di Hitler e se non a scriverlo a suggerirlo a Hitler eh durante gli anni della eh prigionia. Comunque vedremo anche questo. Io intanto eh Nicola ti vorrei dare la parola per cercare di introdurre un attimo questa figura all'interno della eh della storia eh contemporanea. Sì allora come dicevi giustamente poc'anzi Haushofer è una figura estremamente complessa ehm e altrettanto complesso è il suo pensiero e la sua visione geopolitica in maniera generale. È stata dibattuta per molti anni e dibattuta tutt'oggi quindi diciamo che non è appunto una figura è una da da trattare in maniera anche banale insomma ci vorrebbero conferenze su conferenze e chiacchierate su chiacchierate come peraltro è stato fatto negli anni. Lui sì lui nasce a Monaco di Baviera nel 1869 e la cosa interessante che comunque eh fa parte della sua figura è appunto il fatto che lui inizialmente era un era un militare lui era un ufficiale di stato maggiore eh grazie alle ai suoi incarichi non solo andrà in Giappone che al quale dedicherà alcune sue opere tra le più importanti tra l'altro ma ebbe modo di conoscere molte personalità sia a livello politico che diplomatico a livello non solo europeo asiatico ma proprio mondiale. Per fare un semplice esempio eh conobbe anche un certo Lord Kitchener eh che per chi lo lo conosce eh sa bene il ruolo anche nefasto che ha avuto per il popolo Boero in in Sudafrica e tra l'altro lui è stato anche l'inventore eh dei dei campi di concentramento e per esempio per fare altri esempi lui eh ha conosciuto anche eh l'imperatore Mutsushito che eh fu lì fu l'iniziatore eh del dell'era Meiji in Giappone insomma ha avuto eh appunto numerose conoscenze grazie ai suoi incarichi a livello eh proprio tedesco una figura che fu fondamentale per lui fu che fu anche suo allievo fu fu Rudolf S e e poi ebbe legami con Iter eh verso i quali però prenderà alcune distanze e se vuoi ne certo ne parliamo ne riparliamo successivamente eh lui studiò 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 molto le opere per quanto riguarda il suo pensiero eh geografico generale le opere eh tra gli altri perché furono molti eh ad influenzarlo eh ma lui si possono connettere figure come come Mackinder come eh come Rudolf Kellen come Ratzel insomma eh diciamo che lui ha avuto e ha fatto numerosi studi uomo di profonda cultura oltre oltre che che geografo per esempio era era anche storico insomma le le sue opere storiche erano di un certo rilievo sono sono state di un certo rilievo non erano banali insomma. Certo. Senti ma eh quando si parla di Aushofer e si parla di geopolitica perché io per esempio qui ho un'edizione degli scritti alcuni degli scritti che si si intitola appunto della geopolitique cioè è un libro eh edito in Francia che raccoglie una serie di scritti su di Aushofer appunto sulla geopolitica eh quale in che senso la geopolitica può essere unita a eh a Aushofer. Sì e allora anzitutto come 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 ho accennato prima lui eh grazie ai suoi studi eh e grazie soprattutto anche agli autori che ho citato precedentemente eh formerà il suo il suo pensiero. Per fare un banale esempio riportato all'interno di un testo di loro eh che si chiama storia della geopolitica eh riporta una una dichiarazione di Aushofer stesso eh perché eh lui bisogna ricordare anche che partecipò attivamente alla prima guerra mondiale e e da lì proprio si forma in lui una sorta di pensiero anche 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 critico verso il legame che c'è fra questa materia e il suo popolo. Eh lui dice che è lì che ha capito che la dimensione geografica anche della Germania andava trattata in modo differente rispetto a come era stata trattata precedentemente. Anche qui eh a mio modo di vedere eh vi è da ricordare anche successivamente alla prima guerra mondiale eh lui nel nel 1919 eh comincerà a frequentare gruppi nazionalisti eh in eh Germania. C'è anche chi dice che eh fu un membro attivo della Tulegesellschaft di Rudolf Rudolf Fonse Bottendorf. Altri invece dicono di no insomma eh comunque aveva anche il suo pensiero oltre alla geopolitica eh come come scienza andava a cozzare anche verso temi di esoterismo e altro insomma. E lui eh leggendo tra l'altro lui sembra che durante la prima guerra mondiale lesse eh l'opera più importante di Rudolf Kiernan eh l'opera si chiama lo Stato come forma di vita. Che lui eh successivamente afferma durante la battaglia durante la seconda battaglia della valle di Münster in un rifugio sui Vosgi per la prima volta ha trovato nettamente e chiaramente espresse la voce e le rivendicazioni della geopolitica. Kiernan sapeva che la razza germanica si era messa fin dall'inizio in una posizione sfavorevole dal punto di vista geopolitico nella decisiva battaglia per lo spazio vitale l'esistenza e lo sviluppo. Da ricordare anche che mh se poi eh dopo affronteremo il tema del Lebensraum ehm lui ebbe un ruolo decisivo in tal senso per quanto riguarda anche eh l'influenza durante la seconda guerra mondiale che avrà la cosa però non è non l'ha inventato lui quindi insomma eh lo 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 possiamo trovare nelle opere di di Ratzel insomma comunque sì lui lui ecco mh vedeva la la geopolitica come appunto come appunto Ratzel eh come posso dire riteneva che non solo aspetti come la politica la storia o anche l'economia eh potessero decidere il destino di qualche popolo ma lo scenario geografico secondo lui era fondamentale quindi eh in quello in tal senso possiamo possiamo aggiungere ecco lui eh ha dato un enorme contributo anche alla storia del pensiero geografico del novecento questo è in dubbio a prescindere che si possa condividere o meno il suo il suo pensiero eh certo ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando perché eh appunto è importante la geopolitica perché eh in quegli anni c'era questa idea cioè che ehm la Gran Bretagna aveva il suo impero quindi aveva già il suo territorio gli Stati Uniti avevano il eh loro territorio e alla Germania mancasse una cosa del genere la Francia stessa ce l'aveva con le colonie in Africa la Germania invece mancasse questo e quindi eh all'interno di questa consapevolezza si cominciano a muovere queste idee geopolitiche che poi spingeranno fino a qua alla alla concezione della Germania con espansione a est cioè secondo questi teorici la Germania avrebbe dovuto espandersi ad est perché quello era lo spazio appunto come dicevi tu anche prima vitale eh per questa nazione però prima di arrivare a questo e a quanto ha potuto influenzare il pensiero di Aushofer il il nazionalsocialismo ti volevo chiedere eh qual è il rapporto di Aushofer col Giappone e Aushofer eh viaggia in Giappone risiede in Giappone studia quella cultura non rimane semplicemente lì per motivi ecco eh militari piuttosto che politici ma studia approfonditamente eh quella cultura tant'è vero che poi rientra questo aspetto anche nella sua concezione geopolitica mi sembra di capire sì perché allora lui intanto in Giappone eh ci va anche anche prima della prima guerra mondiale quindi mh avrà appunto rapporti anche con con personalità eh diplomatiche del Giappone eh in tal senso in maniera eh approfondita lui eh vado nel nel particolare nel vado dritto al punto insomma senza girarci troppo intorno eh lui terrà eh per per l'ismeo che era l'istituto italiano per il medio ed estremo oriente due conferenze lui eh aveva anche rapporti con Giuseppe Tucci insomma eh e con vari altri orientalisti mh per esempio le 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 sue opere qui in Italia eh saranno divulgate anche grazie a Ernesto Massi eh appunto lui eh riteneva che Italia Germania e Giappone potessero avere un destino comune tant'è che appunto gli gli dedicò delle conferenze specifiche eh lui il Giappone eh oltre dal punto di vista storico lo lo vedeva anche come una sintesi perfetta eh di eh come posso dire vedeva proprio nella nella figura del dell'imperatore eh come sintesi perfetta di eh politica e spiritualità perché eh l'imperatore era anche la la guida spirituale del Giappone ehm in una conferenza eh in particolare eh chiamata appunto stampata scusate eh in un piccolo volumetto del delle edizioni del Veltro eh stampata agli inizio degli anni duemila eh intitolata Italia Germania e Giappone lui appunto fa questi paralleli tra queste tre nazioni infatti lui era 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 estremamente favorevole anche al patto tripartito e lui appunto si chiede ma com'è possibile che anche l'arcipelago del più lontano oriente mostri affinità spirituali e analogie di civiltà nazionale con le nostre proprio queste affinità spirituali fanno sì che il Giappone si senta legato con l'Italia e la Germania più intimamente che con qualunque altra potenza nella difesa dal dal moto distruttore in cui le tre nazioni vedono un pericolo mortale non solo per sé ma per tutto il genere umano per la sua più antica e più preziosa civiltà e poi si chiede ma perché i territori così differenti in tale diversità di clima e di razza distanziamento ed abitazione nel loro cammino verso un avvenire politico tanto carico di esperienza umana e spirituale tutte e tre le nazioni andarono incontro a tanto dolore a tante lotte interne perché mai si presentarono alla distribuzione delle terre tanto tardi che una quasi perdette il suo impero e le altre due giunsero tardi alla costruzione o alla ricostruzione di più grandi imperi sebbene un ideale simile animasse il loro il loro popolo e appunto per questo lui successivamente farà alcuni esempi lui per esempio affermerà che sia Roma che Berlino che Tokyo furono fondate sul nord est delle loro regioni questa loro posizione di margini appunto fu favorevole anche agli agli scambi ed ebbe anche una funzione di di ponte una cosa interessante che io tra l'altro non 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 ero a conoscenza prima di effettuare questa questa ricerca lui da un punto di vista anche letterario ad esempio fra Italia e Giappone fa un parallelo paragona la divina commedia e il Gino Shotoki che il Gino il Gino Shotoki era fu un'opera di di Kitabatake Shikafusa quest'opera appunto come posso dire è un'opera fondamentale del del pensiero Shintoista giapponese e lui dice che Chikafusa guarda a Godaigo come come Dante ad Arrigo VII e fa appunto questo 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 parallelo che come stavo dicendo prima io non non ne ero minimamente a conoscenza dopo per fare un altro esempio commenta le relazioni e il ruolo che hanno avuto il sia il Papa che l'imperatore con con l'Europa con quelle che vi erano in Giappone fra frattenno e Shogun anche qui lui dice la celebre domanda rivolta da Pipino al Papa chi propriamente dovesse governare se il portatore del nome di re o il possessore della potenza ottenne dal Papa risposta in favore del possessore della potenza quindi per la concezione germanica e giapponese nel senso dell'infedeltà simile problema si è posto nel corso della storia una dinastia il cui 124esimo erede sede sul trono la differenza tra il Giappone e tutti gli avvenimenti occidentali sta nel fatto che a tale domanda Kola non fu mai data risposta negativa per le erede della tradizione religiosa forse il pericolo fu massimo durante la lotta delle famiglie Shoga e Uji già che l'intera discendenza dell'apostolo buddista principe Stokutaisi era stata sacrificata ad un avido cancelliere uomi e quindi insomma lui prosegue facendo questi paralleli infine afferma connessioni più profonde fra le tre nazioni può indicare il fatto che un trinomio noto in tutto il mondo ridè installamente un'intera successione di avvenimenti e di attività politica costruttiva e che tali successioni segnalano nei tre paesi una piena coincidenza temporale in Giappone il trinomio è costituito dai tre promotori del rinnovamento nazionale Ota Nobunaga, Toyotomi de Yoshi e Tokugawa Ieyasu tra il 1534 e il 1615 con la loro avventurosa e la loro fantastica fortuna politica conquistata a prezzo di imprese quasi subrumane poi va avanti fa l'esempio di Sikingen-Wallenstein grande elettore dal 1481 al 1688 e per l'Italia invece dice esiste in Italia una simile triade a me sembra di sì anche se come in Germania assai lontani l'uno dall'altro e tardi coronati dalla fortuna immaginate che un uomo come Cesare Borgia secondo la linea direttiva del principe di Machiavelli fosse riuscita l'unificazione d'Italia sia sotto il papato sia sotto qualche oscuro principe ereditario all'ultimo momento come Nobunaga fosse stato assassinato in uno dei suoi castelli o delle sue cappelle ma che tra i suoi condottieri mercenari ci fosse stato pronto un uomo dal genio di Giovanni dalle bande nere che avesse clistato gli altri e si fosse proclamato Gran Maresciallo e fosse poi venuto un signore feudale, un duca del nord dopo la morte del condottiero vittorioso che potrebbe essere stato un uomo col fuoco di Garibaldi ma con maggiore capacità strategica come il primo Shogun Tokugawa in Giappone e avesse in due secoli e mezzo di pace armata unificato il regno poi fa vari esempi come quello del romanticismo nazionale innovatore in Giappone e queste sono cose molto interessanti secondo me Sì sono molto interessanti anche perché ci portano a dire questo e cioè che l'alleanza tra il Giappone, l'Italia e la Germania poi sarà fatta non soltanto essenzialmente su basi esclusivamente militari e politiche però secondo Aushofer anche culturali perché questi tre popoli avevano o comunque avrebbero molto più in comune di quanto si possa pensare poi le vicende storiche sono andate diversamente è interessante che lui faccia questo paragone tra l'unità che ha raggiunto il Giappone e invece l'unità che ha raggiunto l'Italia soltanto successivamente avessimo avuto noi una situazione simile a quella del Giappone avremmo potuto avere l'unità nazionale molto prima di quanto non l'abbiamo avuta e questo è molto interessante, ci dà una testimonianza anche di quello che è il sentire di queste terre così lontane che insomma alla fine dell'Ottocento venivano descritte negli scritti di Aushofer e allora per quanto riguarda l'aspetto più strettamente legato alla Germania tu hai detto all'inizio che insomma si dice che lui sia stato vicino ad alcuni movimenti eccetera però se possiamo fare così azzardare una ipotesi qual era la vicinanza di Aushofer a certi movimenti nazionalisti e poi più strettamente riconducibili a quello che sarà poi il nazionalsocialismo? Sì allora come ho detto in precedenza la cosa è molto dibattuta sino ad oggi non sappiamo con certezza anche se alcuni storici affermano di sì ovvero che lui fosse evidentemente vicinissimo alla società di Thule di Fonse Bottendorf contestualizzerei anche un attimo la cosa ovvero che comunque in Germania subito dopo la prima guerra mondiale vi fu un elevato fermento sia nazionalistico che ideologico si pensi ai vari circoli Volkisch oppure anche alla rivoluzione conservatrice stessa quella che è proprio stata definita come rivoluzione conservatrice rivoluzione conservatrice che all'interno ha avuto diversi pensatori che anche a livello geopolitico comunque non avevano in toto un'unità particolare forse è anche per quello che ha avuto successo fino a un certo punto non tanto da un punto di vista storico, filosofico perché comunque molti autori hanno affermato cose più che interessanti e fanno parte comunque della storia del pensiero politico contemporaneo ad esempio anche lì sui vari legami con il nazionalsocialismo molti si avvicinarono mentre altri no un esempio per esempio si può fare con Oswald Spengler che comunque non fu mai nazionalsocialista per dirne uno ecco tra l'altro Spengler e Aushofer si conobbero per quanto riguarda invece il legame con il nazionalsocialismo beh allora lui dopo la parte appunto i rapporti con Rudolf Hess che ho già accennato prima lui quando fu processato alla fine della seconda guerra mondiale disse testuali parole piani imperialisti di conquista non sono mai stati incoraggiati né dai miei scritti né dalle mie conferenze nel libro sulle frontiere e nelle conferenze pubbliche ho sì protestato contro la mutilazione della Germania causata dai confini tracciati avversari ho difeso la causa dei tedeschi del Sud Tirolo ho salutato con gioia il ritorno dei sudeti alla Germania ma non ho mai approvato le annessioni di territori stranieri non abitati da popolazioni tedesche ho sempre pensato che fantasticare tali annessioni fosse pericoloso e le ho rifiutate riferendosi poi alla sua visione del Mein Kampf dirà ho visto per la prima volta il Mein Kampf quando il primo tomo era già stato stampato e mi sono rifiutato di farne la critica perché non aveva niente a che vedere con l'agia politica mi sembrò che fosse una delle molte effimere manifestazioni delle agitazioni politiche di allora è chiaro che non ho avuto alcuna parte nella sua elaborazione e penso che un confronto scientifico sul mio modo di scrivere e quello di questo libro mi liberi da ogni sospetto di avervi collaborato un'insinuazione che è stata invece sollevata dalla stampa popolare a proposito di Adolf Hitler invece disse ho visto Hitler per la prima volta nel 1922 allora lo considerai come uno dei tanti tribuni che spuntavano dal suolo tedesco sul riscaldato e da sui numerosi gruppi e movimenti tuttavia fino al 1938 ho creduto che le cose si sarebbero evolute favorevolmente mi sono sbagliato l'ho visto per l'ultima volta davanti a testimoni l'8 novembre 1938 e ci siamo scontrati violentemente ricordiamo che uno dei suoi figli Albrecht fu giustiziato perché partecipò all'attentato a Hitler nel 1944 quindi diciamo che cosa che segnò profondamente Ausofer stesso fu anche soggetto ad alcune persecuzioni da parte della Gestapo eccetera però ecco poi lui c'è da dire anche che non ebbe mai la tessera del partito nazionalsocialista anche se fu presidente per un certo numero di anni dell'Accademia tedesca durante il regime quindi appunto la cosa rimane controversa però a mio avviso dire che fu totalmente strano all'influenza dei piani di espansione verso est da parte del movimento nazionalsocialista mi sembra eccessivo secondo a mio avviso anche per i documenti che ho avuto modo di leggere sia documenti che libri insomma alcune cose fanno pensare questo altre invece fanno pensare il contrario la cosa appunto è ancora dibattuta lui ebbe rapporti con quella che storicamente diciamo così è stata definita la sinistra nazionalsocialista con la corrente di Gregor Strasser insomma e anche con Gregor Strasser stesso quindi ecco la cosa è molto è molto complessa tant'è che anche all'epoca giovani studiosi delle SS comunque pianificavano e studiavano piani di espansione anche a livello metapolitico e non solo di semplice espansione perché appunto questa questa svolta chiamiamola così verso est era anche vista come un qualcosa di sacro come un qualcosa di mosso dal dal destino appunto si rivoleva tornare ai vecchi ai vecchi tempi dell'impero e quindi si voleva dare quell'impronta lì sì sì no è interessante questo perché in effetti è chiaro anch'io penso che comunque anche se lui ha cercato di smarcarsi però è evidente che una certa influenza ai suoi scritti l'hanno avuta e in quanto autore anche di rilievo in quanto ha scritto su questi argomenti e quindi tutto questo poi giustamente come dicevi tu si innestava in un clima politico e geopolitico particolare cioè tutte le grandi nazioni si espandevano c'era questa concezione c'era questa idea che la grandezza di una nazione fosse determinata dalla sua anche espansione geografica e quindi naturalmente anche per la Germania non poteva essere da meno e i suoi scritti rientravano pienamente in questo filone di pensiero sì perché anche lui pensava che ad esempio i confini fossero un qualcosa di fondamentalmente flessibile che non fossero un qualcosa di statico e appunto come dicevi giustamente lui era uno dei è stato uno dei fautori appunto di questo pensiero ovvero quello che stabiliva che una grande nazione comunque avesse anche il diritto di espandersi in quel senso in ambito nazionalsocialista si vedeva anche questo in maniera oppositiva rispetto all'altro tipo di espansione quello angloamericano tant'è che poi lui sarà molto vicino anche al pensiero eurasista insomma anche lì è un qualcosa di complesso poi anche in questo caso si può essere d'accordo o meno però il clima il clima all'interno del partito era quello e anche all'interno del partito vi erano differenti concezioni vi era chi era più diciamo più propenso verso un'alleanza con l'Inghilterra e altri invece più favorevoli a portare avanti il discorso partito col patto Molotov-Ribbentrop insomma per farla semplice ecco certo certo questo questo tipo di questo modo di intendere la geopolitica di Househofer secondo te dopo Househofer cioè nel momento in cui è uscito di scena continua a vivere a livello mondiale oppure si tratta semplicemente di ormai un passato cioè di un modo di intendere la geopolitica che comunque passato è legato a un determinato periodo storico e quindi lo possiamo studiare interessante dal punto di vista storico però non possiamo trovarne degli agganci alla nostra contemporaneità sicuramente la geopolitica essendo una prassi implica anche a mio avviso il fatto che alcune posizioni possano cambiare nell'arco di periodi periodi storici le società non sono mai uguali non sono mai uguali gli uomini che interpretano determinate epoche storiche non sono mai gli stessi un'epoca questa è una è una legge che a mio avviso ogni storico dovrebbe imparare ovvero che un'epoca non finisce mai rispetto a come era iniziata quindi sicuramente da un punto di vista dello studio come dicevi come dicevi te è molto interessante sicuramente alcune cose sono rimaste sono rimaste simili rispetto al pensiero di Auso per altre a mio avviso sono sono cambiate personalmente questa è una almeno è una mia posizione personale non mi ritengo un fan dell'eurasismo perché le dinamiche a mio avviso oggi sono sono cambiate rispetto anche a 70 anni fa ma anche a 40 anche a 20 però sicuramente se una persona vuole intraprendere un percorso di studio di queste tematiche su queste tematiche insomma sulla sulla legge politica che sono studi come dicevo all'inizio molto complessi diciamo non può fare a meno di studiare Ausofer perché comunque è stato uno dei primi nel suo campo a mettere in tavola e a dare un qualcosa di qualcosa più anche alla materia geografica stessa perché andava a considerare molti aspetti fra i più svariati di un di un popolo che non sono solamente che ne so per quanto riguarda l'espansione non è che si va a considerare una semplice espansione fine a se stessa un'espansione lui la considerava come un un fattore di elementi cioè ci si può espandere verso un territorio se quel territorio ha determinate caratteristiche e parlo per esempio anche se semplicemente del suolo o dello stile di vita degli abitanti stessi quindi non è che lui teorizzava uno spazio vitale così perché aveva manie di grandezza o altro c'era uno studio profondo in quello che scriveva e affermava sì esattamente poi ricordiamo anche un'altra questione che quel periodo lì cioè il periodo in cui si sviluppa il nazionalsocialismo si erano fatte strada le idee certe idee cioè diciamo l'applicazione del darwinismo al mondo politico e sociale per cui la vita politica la vita stessa di una nazione veniva paragonata a quella di un organismo cioè un organismo deve cercare di svilupparsi nella sua massima potenza e come lo può fare è espandendosi chiaramente non riducendosi al proprio interno e questo era una cosa assolutamente normale in quegli anni pensarla in quel modo lì considerando anche poi il fatto che molta dell'economia era un'economia su base agricola possiamo capire perché era così importante conquistare territori e questi territori come dicevi bene tu dovevano essere particolari cioè dovevano essere magari abitati da persone della stessa etnia o se non erano abitate da persone della stessa etnia si pensava come poter riutilizzare questi territori conquistati andando a collocare lì persone della propria del proprio gruppo etnico come fece poi la Germania nel caso della Polonia quindi quello era proprio un modo di pensare politicamente e anche filosoficamente che era tipico di quell'epoca che oggi ecco facendo un parallelo all'oggi secondo me è molto diverso perché oggi conquistare economicamente un'area più che conquistarla nel vero senso della parola mettendoci la presenza militare è una conquista che si fa sui piani più finanziari economici strettamente economici o addirittura adesso anche informatici tecnologici con le ultime tecnologie ci sono i satelliti anche oggi insomma cose che negli anni 40 non erano presenti insomma ma neanche negli anni 70 appunto sottolineo il discorso che facevo prima ovvero il fatto che lui riprende da Friedrich Kratsel il concetto di biogeografia cioè uno stato secondo lui doveva essere soggetto anche ad esempio alle leggi biologiche quindi è un mondo insomma è un mondo variegato quello di Aushofer insomma e anche di analisti vissuti in precedenza chiaramente sì ecco possiamo dire che poi la geopolitica in questi ultimi anni si fa spesso riferimento a lo hai citato più volte tu nel corso del tuo intervento a questo a queste a queste idee politiche di Dugin per esempio no cioè lui ha cominciato a reintrodurre questi termini di geopolitica ovviamente visti in un contesto euroasiatico e si è tornato a parlare di geopolitica di più che più che di conquista vera e propria ecco di territori ma di influenza di alcune potenze su altri territori io ti volevo fare questa domanda visto che stiamo parlando di Germania e Haushofer appunto da tedesco ti voglio fare questa domanda nel senso geopoliticamente la Germania oggi come si comporta in Europa decidendo di allargare il suo la sua influenza ad est non sta in un qualche modo replicando in parte quello che poi è la geopolitica di Haushofer che non è solo la sua ovviamente però questa tendenza della Germania a guardare a est come suo territorio prediletto di espansione sì in parte sì anche perché come già ho detto prima comunque fa parte un po' del discorso storico storico della popolazione germanica perché anche all'epoca di Guglielmo secondo comunque ci furono alcuni tentativi quindi sicuramente qualche parallelo si può fare sicuramente ora io ammesso che possa essere critico sull'Unione Europea questo sicuramente però sono anche realista diciamo che l'Italia da un punto di vista geopolitico conta meno che zero oggi alla fine del 2020 la Germania comunque attraverso comunque alcuni processi che possono stare simpatici o meno comunque fra tutte le mille controversie che ci possono essere sicuramente determinate operazioni all'interno del continente ad oggi a mio avviso è l'unica a poterlo fare questo secondo me è una mia opinione personale la Francia lo stesso a volte noi veniamo tagliati fuori da processi sia diplomatici che militari semplicemente dando la colpa agli altri ma principalmente a mio avviso è colpa è colpa nostra questo è un mio è un mio pensiero sì sì è condivisibile il tuo pensiero tant'è vero che insomma basta fare il paragone riprendendo le parole di Aushofer cioè negli scritti di Aushofer si parlava di Germania Giappone e Italia oggi purtroppo se possiamo ancora parlare di potenza tedesca e potenza giapponese non si può dire lo stesso dell'Italia questo è un dato di fatto cioè l'Italia è uscita è uscita nel corso dei decenni da essere nazione comunque con una sua potenzialità una sua storia ad essere una nazione gregaria insomma e quindi a perdere la sua influenza sì appunto io non credo appunto neanche che la la prospettiva eurasista possa essere un'alternativa ecco a mio avviso anche perché se diciamo che se uno va a vedere quella che fu l'idea grande eurasia grande eurasiatista sostanzialmente anche all'epoca all'Europa era considerata una diciamo una semplice penisola non è che fosse presa in considerazione quindi c'è anche questi europei che si entusiasmano mi avviso per questa idea insomma anche perché poi oltre a quella c'era anche quella piccola eurasiatista insomma che è lì anche anche quella si basa su altre idee nacque in Russia insomma diciamo che secondo me ha molte falle quel pensiero quella quella visione geopolitica lì ma anche quella visione storica a mio avviso ha molte molte falle diciamo che sarebbe auspicabile avere una propria visione geopolitica come paese sovrano e indipendente piuttosto che magari andare a prendere visioni che appartengono a altre culture altri contesti che possono essere magari interessanti ma che diciamo non rappresentano direttamente gli interessi dell'Italia in questo caso come nazione sovrana sì sì certo anche perché chiaramente diciamo che la posta in ballo è grande oggi la cosa la cosa migliore a mio avviso sarebbe arrivare ad un'Europa sovrana da un punto di vista sia politico che militare insomma con una con una propria politica estera tenendo conto che l'Europa ha in sé diverse differenze vi è un'Europa mediterranea vi è un'Europa germanica vi è un'Europa slava sicuramente non è semplice ma questo è anche il bello dell'Europa ad ogni modo penso che nel ventunesimo secolo ma già c'è chi lo aveva teorizzato prima penso a storici come Dominic Venner già negli anni trenta e quaranta personaggi come Triola Rochelle ne parlavano arriverà poi Jean-Tirillard insomma a prescindere dalle varie spaccettature che ci possano essere io credo che l'unica prospettiva possa essere quella che sia realizzabile è dura questo questo ne siamo ne siamo tutti consci però credo che non ad esempio io non nutro non trovo un certo entusiasmo vedendo le mire espansionistiche cinesi semplicemente perché vabbè ma questi sono anti-americani quindi vanno bene no non vanno bene per tutta una serie di motivi ecco io non non trovo quell'entusiasmo lì quando quando vedo quel tipo di espansione anche perché la Cina fa i propri interessi come è giusto che sia quelli che non li facciamo siamo noi però si non trovano niente diciamo che molto di molte di queste idee che tu hai appena citato di un'Europa indipendente sovrana e con una propria politica estera e militare sono rese difficoltose dal fatto che negli ultimi anni questo regime dell'Unione Europea ha contribuito a far odiare tutto quello che è europeo agli europei per cui qualunque tipo di situazione che può rimandare all'unità dell'Europa o all'Europa stessa o anche ai simboli dell'Europa viene visto con disgusto e non possiamo non insomma non non comprendere questo cioè il fatto è comunque ormai le persone hanno un rigetto soprattutto in alcuni paesi penso alla Grecia la Spagna l'Italia hanno un rigetto per tutto quello che è europeo e quindi andare lì e parlare di no noi siamo per un'Europa però diversa da quella già in partenza ha le sue difficoltà chiaramente sì sì non è non è semplice non è semplice perché l'Unione Europea semplicemente non è l'Europa è l'anti-Europa cioè sono due sono due cose completamente diverse la civiltà europea è un qualcosa di di millenario non possiamo ridurla a 70 anni insomma diciamo eccoci ci vorrebbe una chiacchierata a parte su questo esatto esatto magari ci torneremo certo però insomma certo ascolta volevo chiederti in conclusione di ai nostri a chi ci sta ascoltando guardando se ci sono dei testi di house offer in italiano così diamo qualche indicazione bibliografica perché io per esempio ricercavo qualcuno però come dicevo prima ho trovato soltanto questo in francese che è una raccolta di scritti però se tu hai qualche indicazione da dare ai nostri spettatori su qualche lettura in lingua italiana sarebbe ideale così almeno possiamo dare anche la possibilità al pubblico italiano di conoscere il pensiero di di house offer allora sicuramente quei fascicoli che che ho citato che ho citato prima sull'insegna delle edizioni all'insegna del vento sono interessanti uno si intitola Italia Germania e Giappone e l'altra il Giappone costruisce il Giappone costruisce il suo impero no mi sto confondendo scusami perché ce n'è un'altra sempre dell'insegna del veltro allora le sto cercando allora sì il Giappone costruisce il suo impero non è un fascicoletto è un è un libro corposo insomma nel quale lui appunto ricostruisce dal dalle prime orme del Giappone tutto fa tutta una serie di analisi appunto sulla formazione dell'impero giapponese sì che è molto è molto che non è semplice però è molto interessante l'ho utilizzato appunto anche io per la mia per la mia tesi l'altro fascicoletto si chiama lo sviluppo dell'idea imperiale nipponica sempre edito dall'insegna del veltro poi vi è un altro libro di Nicola Bassoni che si chiama Osofer e l'asse Roma Roma Berlino edizioni Viella e poi geopolitica delle panidee edito dai libri del Borghese questi secondo me sono titoli che possono essere delle buone letture per chi ancora magari non è molto stato attratto dal tema per vari motivi ma comunque secondo me ecco sono molto interessanti va bene e con questa indicazione bibliografica io ti ringrazio molto per essere stato con noi sono sicuro che abbiamo messo tante informazioni sul tavolo per chi ci sta ascoltando ti ringrazio molto e ti darò poi appuntamento a una prossima occasione per discutere di altri temi storico politici grazie io vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo sempre di iscrivervi al canale di seguire il canale sui social e di fare una donazione perché ovviamente con queste donazioni il canale si mantiene e vi offre sempre video come questi grazie a tutti e alla prossima grazie grazie a tutti grazie a tutti